Inaugurato il Museo Storico dell'Aeronautica Militare A Firenze giurano gli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio II Una collaborazione tra Trenitali e Aeronautica Militare Ben ritrovati! Sul lago di Bracciano a Vigna di Valle un'importante novità per l'Aeronautica Militare Il servizio del maresciallo di prima classe Samantha Coviello Il 3 maggio sulle sponde del lago di Bracciano a Vigna di Valle è stato inaugurato il Museo Storico dell'Aeronautica Militare dopo oltre 18 mesi intensi di lavori di rinnovo e riqualificazione del percorso espositivo All'evento erano presenti il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti il Generale Spettore Capo Basilio Di Martino, Presidente dell'Ufficio di Programma Comitato Centenario dell'Aeronautica Militare e numerose autorità civili e militari Ospite d'eccezione è il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Giorgio Moulet Con questa nuova realizzazione proietta ancora una volta l'Aeronautica verso quei traguardi di eccellenza che quotidianamente impegna il Paese con le sue capacità e lo fa in un luogo che non è rievocativo ma è una catapulta verso il futuro agganciandosi all'Aeronautica quindi complimenti all'Aeronautica, l'invito a tutti è quello di venire, di trascorrere una giornata perché qui c'è la storia dell'Aeronautica, c'è la storia d'Italia ci sono atti di valore, di eroismo e atti di quotidiana passione per il Paese Con i suoi oltre 16.000 m2 di superficie il sito è uno dei più grandi e importanti musei aeronautici esistenti al mondo e racconta attraverso i velivoli e cimeli che custodisce l'incredibile valore della ricerca e della caparbia volontà di progresso dell'umanità Il percorso espositivo, completamente riprogettato si snoda lungo 5 padiglioni disposti in ordine cronologico in un racconto emozionante che va dalle origini del volo fino ai giorni nostri In particolare, i vari settori sono dedicati ai pionieri, ai dirigibili alle due guerre mondiali, ai velivoli e alle grandi imprese aviatorie compiute come le crociere di massa e la Coppa Schneider fino ad arrivare all'aeronautica militare di oggi Oltre ad un'identità visiva completamente nuova con un logo stilizzato che richiama in modo iconico uno dei simboli dell'ingegno aeronautico italiano e della storia della Forza Armata l'idrovolante SIAI S55 sono stati realizzati nuovi spazi come un'area polifunzionale dedicata a mostre tematiche realtà virtuale, simulatori, motori e cimeli che insieme ai velivoli raccontano lo sviluppo tecnologico e le imprese degli uomini che hanno scritto pagine indelebili di storia aeronautica Il museo, oltre ai quasi 80 velivoli che hanno fatto la storia della Forza Armata custodisce pezzi particolarmente pregiati una collezione unica nel suo genere Dovendo indicare qualche pezzo particolarmente pregiato uno è senz'altro il pallone di Garneren se ne è parlato tanto il più antico cimelio esistente al mondo ma cerchiamo di individuarne uno per Hangar primo Hangar, vi sembra strano, ma secondo me è il trimotore Caproni il primo vero bombardiere della storia il velivolo con cui nasce il concetto di potere aereo se passiamo al secondo Hangar è molto facile dirlo l'MC72, il velivolo del record di velocità di Agello con oltre 709 km passiamo alla seconda guerra mondiale e lì la macchina è una per tutte l'S79, protagonista di tante imprese e poi arriviamo agli ultimi Hangar prendiamo due macchine una è sicuramente il G91 con cui rinasce l'industria aeronautica dopo la seconda guerra mondiale e poi lasciatemi dire perché la mia generazione vi è molto legata l'F-104 l'opera di ammodernamento che rientra tra le iniziative del centenario dell'aeronautica militare che si sta celebrando in questo 2023 consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza nuova ed immersiva e al museo di diventare un polo attrattivo per le nuove generazioni attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie non dobbiamo dimenticarci la storia perché la storia ci insegna a vivere a guardare a oggi e soprattutto al futuro ma dobbiamo anche capire quelle che sono le esigenze dei giovani ecco perché ci sono delle sezioni dedicate anche allo spazio al futuro e l'attività multimediale è un qualche cosa che sicuramente avvicinerà ai giovani anche a incuriosirsi a conoscere il nostro passato per capire se effettivamente c'è un qualche cosa che può stimolare la loro curiosità e passione per entrare magari nella nostra Forza Armata quindi anche questa funzione ha il museo di oggi Sarà possibile visitare il Museo Storico dell'Aeronautica Militare entro la prima decade di maggio tutti i dettagli saranno presto disponibili sui nostri profili social sul sito web e sull'app del centenario Aeronautica Militare 100 A Firenze nello spettacolare proscenio di Piazza della Signoria hanno giurato gli allievi del Corso Ursa della Scuola 2 l'istituto inaugurato nel 2006 che nel corso degli anni ha visto giurare oltre 550 allievi provenienti da tutta Italia il nostro servizio Corso Ursa lo giurate voi? Ancora una volta l'Aeronautica Militare ha scelto di svolgere una cerimonia di giuramento tra la gente una decisione presa in questo anno del centenario che nasce dalla volontà di raccontare anche alla cittadinanza dei luoghi che ospitano le scuole di formazione della Forza Armata le diverse realtà addestrative riteniamo che non dobbiamo nasconderci nelle caserme dobbiamo necessariamente ringraziare il nostro popolo e il contribuente chi paga le tasse e lo dobbiamo fare facendo vedere con i fatti quello che facciamo tutti i giorni in silenzio la migliore dimostrazione della nostra forza della nostra caratura e di quanto di fatto noi spendiamo per crescere nel nostro addestramento è essere insieme alla gente sentire il loro calore e magari sentire anche la loro pacca sulla spalla che ci dà forza morale e stimolo per andare avanti la scuola 2 che attualmente ospita 100 allievi è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico al quale si accede per concorso pubblico la formazione umanistica e scientifica prevista dal piano dell'offerta formativa del triennio conclusivo di liceo classico e scientifico è supportata da molte attività culturali sportive di istruzione un impegno importante quello della scuola per formare questi ragazzi così giovani svolto con il supporto del corpo docente è una ricetta perfetta è quella che noi perseguiamo tutti i giorni grazie al corpo docente dedicato alla formazione di questi ragazzi tuttavia è bene ricordare che il compito istituzionale nei riguardi di questi 36 giovani è quello di formare prima di tutto ottimi cittadini poi qualsiasi sia il loro percorso futuro se sarà nelle forze armate ci saranno istituti di formazione dedicati alla loro formazione come ottimi militari noi ci accontentiamo e perseguiamo di formare ottimi cittadini che possono servire la patria in qualsiasi contesto lavorativo poi vorranno proseguire la loro carriera si può ancora partecipare quest'anno al bando di concorso perché la sua scadenza è stata prorogata fino all'otto maggio sì il bando è stato prorogato fino all'otto maggio alle ore 12 i ragazzi vengono alla nostra scuola perché aspirano a una formazione superiore aspirano ad avere delle attività con i loro colleghi a conoscere nuovi colleghi a conoscere nuove realtà e a spingersi oltre quindi sentono la necessità di confrontarsi prima con loro stessi per poi ambire a qualcosa di superiore una collaborazione tra Trenitalia e Aeronautica Militare che porterà il nome della Forza Armata in tutta Italia un Frecciarossa 1000 brandizzato Aeronautica Militare un'altra iniziativa realizzata per il centenario della Forza Armata ne abbiamo parlato con il Capo di Stato Maggiore generale di squadra aerea Luca Goretti poco prima di viaggiare a bordo del treno abbiamo trovato una cosa in comune l'eccellenza nell'alta velocità noi siamo l'alta velocità per Antonomasia in aria e loro sono l'alta velocità sui binari e quindi ci siamo incontrati abbiamo fatto un accordo insieme e per me avere la possibilità di poter pubblicizzare quello che noi facciamo in un ambiente molto importante come quello di Trenitalia è molto significativo rappresenta un messaggio per tutti quanti i viaggiatori Videognews termina qui vi diamo appuntamento alla prossima settimana buon weekend a tutti i viaggiatori